Oggi vi raccontiamo l'ultima che abbiamo scoperto. In Regione Lombardia è stata licenziata l'ennesima furbetta del cartellino, un'impiegata che faceva risultare di essere in servizio esterno per la Regione, che usciva dall'ufficio senza autorizzazioni e andava a farsi i fatti propri. Non facciamoci però fregare dalle apparenze, questa persona ha pagato, ma qualcuno autorizzava queste sue uscite. Possibile che la dirigente che ha permesso tutto questo per diverso tempo non debba pagare il conto davanti a una vergogna di questo tipo? Per far pulizia bisogna partire dall'alto e noi vogliamo assolutamente recuperare i soldi che Regione Lombardia ha sprecato togliendoli a quei dirigenti incapaci. Mentre non daremo tregua a questo dirigente, perché noi quei soldi li rivogliamo indietro rispetto alla sua inefficienza, guardiamo al lato positivo. L'ennesimo dipendente pubblico onesto, un ennesimo whistleblower che ha denunciato le irregolarità e ha permesso di scoperchiare questo ennesimo scandalo. Continuate a denunciare. Il Movimento 5 Stelle è a disposizione, i cittadini su di noi possono contare perché quando ci arriva una denuncia di irregolarità ed illecito noi non guardiamo in faccia a nessuno, denunciamo e correggiamo il tiro.